Abbiamo trattato davvero tantissimi temi, certamente la sanità ha occupato uno spazio molto importante e se non fosse stata per la Commissione Vigilanza che ha messo dei fari, ha acceso dei fari su alcuni temi probabilmente alcune questioni non sarebbero state nemmeno trattate. Penso per esempio a alcune nomine di alcuni primari che a noi non erano scese giù e sono venuti molti a testimoniare come questo non andava e quindi la Regione e la Giunta ha dovuto cambiare passo, ha dovuto adottare delle delibere per cambiare passo. Una delle cose che mi ha dato più soddisfazione, ricordo che c'era per esempio il concorso sulle farmacie bloccato da anni, nessuno la smuoveva. Con l'arrivo nostro in Commissione Vigilanza abbiamo portato più volte fino a quando l'assessorato ha dovuto sbloccare il concorso e assegnare le farmacie. Se oggi si va in qualsiasi città della Regione Abruzzo trova molte più farmacie di 5 anni fa. Questo è merito della Commissione Vigilanza in toto. Penso alla questione della Casa dello Studente, oggi è ancora impantanata certo ma noi abbiamo portato per 5 volte la questione all'interno della Commissione Vigilanza facendo parlare tutti, dalle parti sociali ai lavoratori, soprattutto gli studenti che erano quelli più interessati. Il tema ancora non si risolve, ma almeno non abbiamo lasciato che rimanesse nascosto. L'abbiamo portato all'ordine del giorno ed è finito sulla stampa regionale dappertutto. Noi quello volevamo fare, accendere un faro dove c'erano delle ombre che a noi non convincevano. Abbiamo cercato di trattare tutto, trasporti, turismo, sanità, ogni tema è stato trattato con l'aiuto di tutti. I commissari hanno partecipato tutti, forse in questo mi sento soddisfatto e orgoglioso perché ho reso partecipe tutti i commissari di maggioranza e di opposizione e questo è davvero frutto di un gran lavoro. Un'ultima domanda, 4 anni di esperienza ma due legislature alle sue spalle e fra qualche mese ci sarà un nuovo Presidente, una nuova Commissione di Vigilanza. Qual è l'ascito che lei dà? Ha il consiglio che vuole dare al futuro Presidente? Io mi auguro che riesca a mantenere questo profilo. Se la maggioranza in questo momento mi riconosce il ruolo di un alto profilo istituzionale fuori dalla maglietta, fuori dalla bandiera di partito, io auguro a lui di avere la stessa forza, di dimenticarsi quando siede su quella poltrona che non è un uomo di partito, è un uomo della regione Abruzzo, è un uomo delle istituzioni, è un uomo di controllo, è un uomo della vigilanza. Se riuscirà a fare questo avrà mantenuto ciò che ho seminato ma sono convinto, io non mi sono mai sentito migliore di nessuno, sono convinto che chi verrà dopo di me farà altrettanto e se non dovesse farlo mi auguro che tutti quelli che andranno a sedersi nei prossimi banchi del Consiglio regionale glielo ricordino ogni giorno. Questo è il ruolo del Presidente della Commissione di Vigilanza, spero di esserci riuscito. comunque grazie a tutti per avermelo ricordato ogni giorno.